I motori sono già caldi. Il gran premio di Formula 1 d'Australia sta per partire. Tu non puoi mancare. La diretta esclusiva domenica 16 è solo su Sky, con un canale dedicato. Solo su Sky, tutti i gran premi di Formula 1 sono in diretta. Entra subito in Sky, a 29,90 euro al mese. Chiamaci, 023682. Grazie a tutti.